Recuperiamo questa cosa che ci ha detto il sindaco Alemanno in studio venerdì scorso nella lunga intervista nello speciale di Roma 1, piano regolatore degli impianti pubblicitari. È una storia questa dei cartelloni pubblicitari a Roma veramente, non mi viene neanche il termine a volte, vergognosa, pessima, è una situazione imbarazzante agli occhi di chiunque, ma neanche devono venire dall'estero, di chiunque non sia di Roma, perché arrivano qui e trovano questa giungla di impianti. Io saluto un po' che non ci sentiamo, lo ringrazio molto, Massimiliano Tonelli, blogger, tra i vari blog che ha, e si batte con molta forza, a volte dicono anche con troppa, insomma, qualcuno, no? Gli è costata anche questa sua battaglia una querela, ne parlammo a suo tempo, tra i vari blog a Cartellopoli. Tonelli, ben trovato e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie avermi invitato. Poi, non lo so, perché sa che ci dicono ogni volta, quando cito lei, ma non solo, anche altri blog, altre realtà, poi il politico mi dice, ma tanto lui poi, loro si candidano, fanno politica, io non so se sarà così, però finché non è così, non mi pare, no? È abbastanza matematica la risposta, nel senso che non ci sono, credo che non ci siano, non me ne sono occupato, quindi non sono certo, ma credo che non ci siano neanche più i tempi tecnici per candidare nessuno di noi, quindi né io, né altri blogger abbiamo questa intenzione. Questa Cartelloni, ne riprendiamoci Roma, insomma, che è un altro che mi segue, che saluto e che io seguo su Twitter. Veniamo al punto, facciamo un po' di ogni tanto, è giusto che ci sentiamo, per fare anche un bilancio. Bilancio, poi se non succede nulla, il piano regolatore degli impianti non è passato, almeno ad oggi nessuno ha insistito per discuterlo, però il sindaco Alemanno, caro Tonelli, io glielo faccio ascoltare pochi secondi e poi vengo da lei, e diteci la vostra anche su questo. Venerdì scorso, adesso qui c'era un passaggio in cui io gli mostravo le planche elettorali, altra battaglia che abbiamo fatto, poi ci siamo dovuti rassegnare, torneranno alla grande tra pochi giorni queste orrende impalcature, vetuste, degradate, dove si metteranno i manifesti pubblicitari. Il sindaco ci ha detto molto direttamente, ha detto non abbiamo soldi per fare impianti migliori, quindi ce li dobbiamo beccare così come sono. Poi io gli ho chiesto perché lascerà in eredità a lui stesso, a chi per lui, insomma chi sarà rieletto, il piano regolatore degli impianti, perché non è stato realizzato. Ascoltiamo insieme questo passaggio e poi andiamo a sentire Tonelli del blog Cartellopoli. Vediamo un po'. Noi speravamo che per l'amministrativa arrivassero nuovi impianti. Se c'ho un euro lo uso per le strade, non lo uso per i bambini, si fanno un po' schifo, mi rendo conto che dobbiamo fare. Però i marciapiedi, i buchi, quelli li ripara l'amministrazione purtroppo. Quello sì, quello sì, però quando ci saranno i manifesti sopra saranno un po' meno brutti, dai. Allora, invece nel quanto riguarda il PRIP... Il PRIP perché non siete riusciti a farlo, insomma? Perché da tre anni a questa parte, forse da cinque, ma diciamo che gli ultimi tre anni è stato veramente grave, c'è un'opposizione ostruzionistica del centro-sinistra che ogni delibera ci fa veramente sudare le sette camicie, che ogni delibera, anche quella più scontata, ha bisogno di riunioni, riunioni, adunanze dell'assemblea capitolina, perché c'è uno stuzionismo pazzesco. Noi continuiamo a fare queste convocazioni, arrivano centinaia di migliaia di emendamenti, dell'ordine del giorno, e c'è un ritardo pazzesco. Noi abbiamo detto più volte, siamo pronti a provare anche in un'ora il PRIP, si potrebbe fare anche adesso, perché ci vangono... Anche in estremi, sì. Anche in estremi, sì. E perché non lo potete fare adesso? Perché l'opposizione... Al PRIP si oppone l'opposizione? Certo, l'opposizione su ogni cosa, anche le cose più scontate, anche la modifica del regolamento di inizio per il risparmio energetico, presenta decine di emendamenti, blocca l'attività consigliare, noi nella prossima consigliatura faremo un meccanismo di urgenza, quando c'è una delibera d'urgenza, il sindaco dice di urgenza, si vota superando il regolamento del giorno. Bene, bene, rientriamo perché poi il sindaco diceva la prossima volta, insomma, se sarò rieletto, faremo un altro meccanismo per azzerare l'ostruzionismo. Noi ricordiamo benissimo l'ostruzionismo manifesto su Acea. Ora, questo non lo sappiamo, certo, neanche potremo saperlo, perché finché qualcuno non va in aula Giulio Cesare a dire vogliamo votare il PRIP, neanche sappiamo se questa opposizione, io ho anche ripetuto la domanda, dico, ma sindaco, quindi è solo un problema di opposizione? Dice sì, e loro non ci fanno lavorare. Io lo voterei, lo approverei anche oggi il PRIP. Tra l'altro, ripeto, se avete voglia, insomma, andate sul canale YouTube di Roma 1 e ritrovate tutta l'intervista integrale. Allora, Tonelli, ha sentito, no? Ha sentito anche un sindaco che, insomma, ammette che fanno schifo, ha detto lui, le planche elettorali, però poi dice, quindi alziamo le mani se lo dice il sindaco, però poi dice, io il PRIP lo voterei anche oggi. Come stanno le cose dal vostro osservatorio? Chi non vuole il piano regolatore degli impianti e, secondo lei, a chi fa comodo? Perché l'idea che abbiamo sempre avuto, che condividiamo con voi, è che sia un po' trasversale questo interesse. Però bisogna prendere atto anche delle dichiarazioni di Alemanno. Allora, che ne pensa, Tonelli? Ma, dunque, innanzitutto c'è un problema proprio tecnico in quello che dice il sindaco, che dimostra di avere un po' la considerazione dell'intelligenza di chi lo ascolta. Voglio dire, il PRIP ha le pretese di sanare una situazione di emergenza, come ha detto giustamente prima Bozzi, che si è creata a causa di una delibera comunale del 2009. Stessa amministrazione, stessa maggioranza, stesso consiglio, stessi consiglieri. Se nel 2009 questa delibera è potuta passare tranquillamente, perché il sindaco ci dice che adesso la delibera che deve sanarla non può passare perché su ogni delibera, anche quella minima, la sinistra e l'opposizione fa ostruzionismo in maniera strumentale? Cioè, c'è qualcosa che non torna. Allora, perché quella gliel'hanno fatta passare? Le risposte possono essere due. O perché il sindaco mente, quindi non è vero che ci sarebbe questa opposizione, tant'è che la delibera non è ancora... è stata calendarizzata, ma non è ancora entrata in aula. Oppure perché le due forze politiche principali del Consiglio Comunale su questo tema sono consociate, cioè un consociativismo pazzesco. E sono vere entrambe le risposte. La terza, invece, cosa importante, altrettanto vera, è che comunque, anche se il primo passasse, non ci sarebbe nulla di sanato. Ecco, perché? Perché? Spieghiamo, adesso, senza andare nel dettaglio, perché qua poi ci perdiamo, è complicatissimo, i telespettatori, soprattutto a quest'ora, credo, hanno meno... Cioè, voglia di capire, ma senza farci girare a noi stessi, per primi, la testa. Perché, però, la sintesi di Tonelli dice se anche domani lo andassero a provare, noi non dovremmo gioire. Perché? Aspetta, perché non abbiamo detto che voi stimate 60.000 impianti abusivi a Roma? È una stima? No, 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 no. Di meno? No, 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 questo non abbiamo... Di meno, di meno. È una cosa che non abbiamo mai detto, perché sono molti di più. Ah, molti di più. Se noi prendiamo questa cifra... No, noi ne stimiamo 250.000, tra 200 e 250.000. Ah, vabbè, voi addirittura così. Comunque, io intanto faccio vedere anche la galleria degli orrori, qua, dal sito, dal blog Cartellopoli. Allora, perché non dovremmo gioire se fosse approvato oggi? E che, invece, che cosa andrebbe messo nel PRIP? Speriamo, magari, domani, no, chi vincerà le elezioni, insomma, la prossima legislatura. Ma il PRIP nasce con una logica che non è una logica che punta a risolvere il problema, è una logica che punta a sanare una situazione completamente anomala. Quindi questa è la logica politica a ombrello su tutto quanto il PRIP. Inoltre, ci sono una serie infinita di errori che tutti i blog che si occupano di questa faccenda hanno segnalato e che l'amministrazione si è dimostrata non nelle volontà di correggere. E poi il PRIP è sostanzialmente una delibera di indirizzo. Cioè, non ci sono dentro dei contenuti che attuano le norme. Quelli vengono demandati in un secondo momento senza nessun tipo di data. Cioè, il PRIP sostanzialmente dice queste cose vanno fatte in questo modo e questo modo neanche va bene e questo modo verrà attuato quando delibereremo i vari piani particolareggiati sul territorio senza però dare una scadenza a questi piani che potrebbero essere poi procrastinate, se ne die, all'infinito. Beh, questo insomma quindi è chiaro. Allora, altra cosa... Intanto no, volevo far vedere anche... Vabbè, avete messo una cosa straordinaria, dice, alla memoria. Facciamolo vedere, risalgo un attimo. Questo qui, perché poi si trovano delle cose sempre più curiose, bizzarre. Adesso, se ci riesco, volevo far vedere delle foto. Ormai, ricordiamo il precedente, Tonelli, in cui furono tagliati degli alberi in Viale Tina Pica per far vedere meglio i cartelloni abusivi. Io sto vedendo impianti con una gamba lunga, una corta, così si possono appoggiare sul verde, sulle siepe, cose allucinanti. Alla memoria, qua siamo all'Eur, Tonelli, è vero? Sì. Ecco, voi avete talmente un archivio, una banca dati efficace, che fate vedere. 15 marzo 2012 c'è un impianto, però poi si scopre che la ditta era stata radiata, l'impianto viene rimosso e che cosa rimane oggi? Questo scheletro. Perché? Boh, perché se lo sono dimenticato. Perché? Ma sì, ma poi queste ditte radiate sono anche questo un'altra faccenda. Diciamo che su tutta la faccenda non dovrebbe più occuparsi la politica. Noi lo stiamo dicendo da tempo, ma se ne dovrebbe occupare la magistratura. Per ora la magistratura si occupa, come prima avete detto, dei blogger che contrastano questo fenomeno. Però la magistratura, se vuole, può continuare a occuparsi dei blogger, ma dovrebbe però in parallelo anche occuparsi di questa faccenda. Perché veramente, come ha detto in premessa lei, Bozzi, è veramente una cosa che non ha... È difficile trovare aggettivo. Non è uguale nel mondo, anche in quello meno sviluppato. Anche in quello meno sviluppato. Noi sembriamo dei pazzi a dirlo, magari sembriamo esagerati, ma è veramente uno scandalo. È una roba da un miliardo di euro all'anno di soldi che girano su questo settore. È una questione che dovrebbe avere la stessa attenzione del traffico di armi, del traffico di droga. E allora, quello che mi preme chiedere, poi la salutiamo. Intanto, guardate quest'altra galleria, ripeto, degli orrori. Noi ormai siamo a sue fatti, a una città dove ovunque ti giri trovi questi impianti, senza più un minimo di logica, estetica, razionale. Cioè è solo una macchina da soldi per chi li mette, che invece, insomma, è una macchina che leva soldi, evidentemente anche a chi vive di pubblicità, come noi, come tanti giornali, tanta free press, tanti anche siti online, no? Vanno lì e si creano situazioni così incredibili. Però quello che volevo chiederle è, in conclusione, voi avete, voi basta cartelloni che saluto, cittadinanza attiva e altri, no? In questi giorni mi pare di capire che siete disponibili a parlare con i candidati che vogliano recepire le vostre indicazioni, perché siete sul campo, coraggiosamente, ci mettete la faccia, coraggiosamente, perché non è che tutto sia così, rose e fiori in questo ambiente, chi è che vi sta ascoltando? C'è qualcuno che sta dicendo lo metto in cima, adesso magari in cima no, ma lo metto sì, tra le priorità del mio manifesto elettorale. C'è qualcuno, c'è qualche segnale positivo, oppure dobbiamo restare così, legati a voi volontari e a noi anche quando facciamo questa battaglia? I segnali sono abbastanza preoccupanti, perché noi abbiamo fatto un'analisi attenta, ad esempio in occasione delle primarie, che sono state il fatto politico più recente dell'ultima settimana, sui programmi dei candidati, dei sei candidati del centro-sinistra, e nessuno di questi portava un'attenzione su questo tema, che è uno delle emergenze invece della cittadina, è molto grave. Per quanto riguarda tutti gli altri candidati, analizzeremo adesso quando sarà chiaro il quadro di chi correrà per le comunali di fine maggio, analizzeremo tutti i programmi e poi sui nostri blog faremo come al solito il pagellone rispetto ai nostri temi. Una cosa fondamentale che volevo aggiungere sui cartelloni, appunto a proposito di campagna elettorale, che stanno apparendo adesso e riportano la presenza di politici sui cartelloni. In nome della trasparenza che c'è, sempre più di moda in questo momento in politica, sarebbe veramente importante che i politici che utilizzano quegli impianti, magari gli stessi politici che gli hanno dato le concessioni, perché ho visto degli impianti, abbiamo pubblicato delle foto degli impianti dell'assessore Bordoni, che è l'assessore a commercio che sovra... Eccolo qua, mostriamo la foto da un altro vostro post-it. Ecco, questo sarebbe veramente un passo strepitoso. Cioè voi aspettate un attimo, Tonelli sta dicendo per la trasparenza, per la legalità, non sono obbligati a farlo, ma sarebbe bene forse che sia Le Manno che agli altri assessori, ma io dico pure perché no, anche la sinistra, perché se non è corresponsabile nei fatti, perché non ha governato, lo è, perché non mi pare che ci siano state mai alzate di scudi su questo, e me ne assumo la responsabilità. L'abbiamo detto prima e l'abbiamo detto bene. Perché mai si è visto qualcuno, non dico incatenarsi, ma stracciarsi le veste, per questo tema, sarebbe bello che sul loro sito ognuno scrivesse ho dato un euro a quella ditta per l'impianto in via. È così? È questo che chiedete? Eh sì, perché Bozzi sa, c'è il sospetto che questi cartelloni durante la campagna elettorale vengano dati, diciamo, con un prezzo di favore a questi politici. Visto che sicuramente non sarà così, sicuramente questi politici li acquisteranno a prezzi regolari, come tutti gli altri clienti non avranno nessun favore poi da ridare in cambio in termini di delibere, in termini di occhi chiusi e quant'altro a livello di controllo, allora lo potrebbero tranquillamente dimostrare, ormai tutti i politici hanno una faccina a Facebook, un sito pubblicano la loro bella fattura di acquisto degli spazi, il bel bonifico del pagamento e quindi siamo tutti tranquilli che quando poi vanno in aula a votare, se magari votano come è successo a favore di questa invasione di cartelloni, lo fanno perché credono veramente che serva a qualcosa e non perché hanno avuto un regalo prima. Anche perché, e così chiudiamo davvero, io non so se Torali lo sa, ma insomma, noi come televisione, come emittente locale, vale per le radio ed è giusto che sia così, godiamo, no, godiamo, insomma, dobbiamo seguire un regolamento sulla parcondicio proprio ferreo, ferreo, da dove non si sfugge né per i listini, questo mi raccontavano un altro giorno, né per quanto riguarda proprio gli spazi pubblicitari, allora Tonelli sta dicendo perché, ma questo in generale per la trasparenza, però per il rapporto poi di fiducia che vogliono avere i politici con i cittadini, però io aggiungo anche perché non si mette anche lì, non si fa un qualcosa, no, una legge che garantisca tutti, perché se dovesse succedere non succederà mai, per carità, che una di queste ditte dice, caro amico candidato X, ti regalo tutti gli spazi che vuoi, eh, poi che fa questo, non va a chiedere qualcosa, allora, no, quando si parla di lobby, manifeste, forse è meglio questo. è un reato, questo è voto di scambio, è un reato e va gestito come tale, però insomma, giustamente, rispetto anche a voi, è un altro elemento altrimenti di pubblicità ingannevole, di concorrenza ingannevole, di concorrenza sleale nei vostri confronti, già la pubblicità esterna ve ne fa tantissima di concorrenza sleale. Certo. Grazie Tonelli, grazie a voi. Anche qua, insomma, ci risentiamo a breve, quando volete, eh, grazie. E seguite questi blog cartellopoli, basta cartelloni, mi fermo qua, ce ne sono molti altri. Allora, telespettatori che vogliono intervenire, eh, non so su quale argomento, perché abbiamo toccato un sacco di temi, anche oggi, siamo molto contenti di averlo fatto e soprattutto delle cose positive che oggi vi abbiamo detto, non queste ultime magari, però. Pronto? Buon pomeriggio? Pronto? Buon pomeriggio. Anche a lei, io per esempio, l'ascolto sempre, no? Grazie. Dico, voi conduttori di telecomunicazione e carta stampata, dovreste sempre, anche in maniera feroce, combattere questo mal costume, perché tra gli eletti si fa la guerra per essere eletti, no? Però nessuno si batte per far firmare un codice elettico, il primo che sgara, via. Adesso vediamo anche il caso di questa amministrazione comunale che non è esente da pecche, perché noi abbiamo avuto i piccoli, abbiamo avuto l'amministrazione dell'Atac, insomma, molto chiacchierate, no? Però troviamo la carta stampata e anche qualche conduttore, che li difenda a spada tratta. Quando si mergano le critiche, chiunque sia, destra, sinistra, centro, ci ha bisogno di menare, far firmare un codice elettrico a tutti gli eletti che come sgari vai lì a un calcio nel vedere, perché la gente si è stufata. Adesso noi parliamo dei cartelloni, ma è una vita che si parla dei cartelloni, ci saranno delle convenienze, no? Qualcuno si guadagnerà qui, no? Però vede qual è poi, il signore è molto, l'apprezzo, l'apprezzo per la sua, anche per lei si sente la voglia di legalità, di lo slancio civico, come si chiama lei? Saverio. Ecco, volevo dire, Saverio? Sì. Il confine poi, vede, bisogna stare, siccome i politici poi sono sempre molto, diciamo, permalosi, ma non è questo il punto, sono molto, aspetti, no, aspetti Saverio, sono sempre pronti poi a reagire se c'è poco poco un qualcosa che non corrisponde al vero, questo lo capiamo, quindi voglio dire, il confine tra fare informazione, andare oltre, ma poi andare anche, scadere anche in una generalizzazione che può fare danni, questo noi cerchiamo sempre di rispettarlo, ha capito? Quindi, a me poi non mi piace mai quando la gente la mette tutta, la butta, si dice a Roma, in cacciara, no, sono tutti ladri, no, questo non esiste, esiste che esistono persone oneste e persone disoneste, ma gli posso dire una cosa? Certo. Io capisco che è molto difficile amministrare una città tipica come Roma, e come in altre città, no? Però noi abbiamo le organizzazioni criminali, la mafia, Camorra, Andrangheta, Sacra Corona, impermeate, che sono radicate dentro questi gangli, che c'è l'incastro, che è difficile, insomma, e poi noi andiamo a trovare la difesina, la cosa, non si può, ma guardi che infatti quando ci sono delle inchieste serie giornalistiche, quando ci sono inchieste giornalistiche serie e per carità io mi metto proprio, no, faccio tre passi indietro, non siamo noi, facciamo un lavoro molto diverso, anche molto terra terra se volete, ma ne siamo fieri perché poi otteniamo risultati molto vicini ai cittadini. Quando ci sono inchieste giornalistiche serie che colpiscono nel segno, cadono le teste, perché? Perché poi si dice, no, quante volte si dice, se non lo fa il report, perché invece dovrebbero essere altri, è la magistratura che lo fa, probabilmente, in tanti casi, la politica stessa, allora, intanto la saluto, Saverio, la ringrazio, continui a seguirci. grazie. Grazie, però voglio dire, qualcosa è cambiato, cioè adesso anche questa ventata, questo tsunami del 5 Stelle che chissà dove arriverà, se si fermerà, se si sgonfierà, se invece aumenterà, però vedete quanti poi sono venuti qua a dire adesso metteremo tutto online, metteremo tutto, renderemo tutto trasparente e questo si sta già facendo. Per chiudere, lei dice, perché non fanno un codice etico, non so a che si riferiva, se in generale, su tutte le istituzioni, dove se uno sgarra viene mandato via, magari, invece, le inchieste poi, semmai, colpiscono e mandano via i politici, ma questo senso di responsabilità e di essere cristallini dei politici stessi, beh, insomma, lei per oggi chiede troppo, quindi questa è la realtà, perché fino a lì non ci siamo arrivati. Adesso abbiamo detto forse anche delle cose facili, demagogiche, stupidaggini, che poi è quello che cerco sempre di così scansare, però ben venga l'appello di, diciamo, anche l'intervento del signor Saverio, mi scuso con gli altri che non riusciamo a intervenire ma siamo a dover agli sgoccioli, vedete, anche lui poi dimostra che ci vorrebbe un codice etico per tutti, comunque ci vorrebbero anche le regole e ci vorrebbero delle regole, per esempio, sui cartelloni pubblicitari diverse, stringenti e ci vorrebbe che queste regole poi fossero rispettate, perché si dice poi facciamo un'ordinanza, facciamo un decreto, vedete, sulla carta in Italia esiste una Costituzione meravigliosa, esistono codici su codici, tutto è già potenzialmente realizzabile ma se poi ci sono i controlli, cioè voglio dire tutto ci garantisce e ci tutela ma se tu fai un'ordinanza nuova e poi non multi perché non hai i mezzi, gli uomini, perché a Roma mancano 3000 agenti di polizia, perché mancano i vigili urbani, allora poi restiamo sulla responsabilità di ognuno che spesso anche è carente perché poi siamo i primi a sporcare, insomma a non rispettare forse la città, quindi cerchiamo di essere magari così anche utili come sensibilizzazione, chiudo, giuro, promesso, chiudo, me ne vado, arrivederci, se volete domani alle 14, ditelo a Roma 1 in diretta, a Roma 1 in diretta, a Roma 1 in diretta,